Oggi lo sciopero dell'Ada che vi dicevo, chiusura della metro, sono state chiuse, rimaste chiuse le metro B e C, qui vedete la B1 a Concadoro totalmente sprangata, ha funzionato e funziona con riduzioni di corsa solamente la metro A, questa è la schermata, anche le ferrovie regionali hanno dato praticamente forfè, lo sciopero riprende dopo la fascia di garanzia del pomeriggio, riprende dalle 17 alle 20 e dopo di che riprende fino a fine corsa, quindi solo dalle 17 alle 20 potrà essere preso per l'utilizzo, poi sciopero fino a fine corsa.